Oggi siamo in Valvisende, anche conosciuta come Tempio al Dio e no al Creatore con il caico melico. Da cima canale si va a fare visita alle postazioni e baracche militari della Prima Guerra Mondiale, recentemente riattate. Successivamente ci si inoltra nel bosco della chiesa, sopra Gio del Camoscio, per andare a visitare delle conformazioni rocciose suggestive. Si rientra per i bellissimi borghi di Costa D'Antola, Pra Ravanel, Pra del Belf, Costa Zucco, La Fitta e infine Pramarino, dove si tirà un incontro conviviale, alla Malga Pramarino. Tempo di percorrenza 4 ore e 30 circa. Disribello metri 500, accompagnatori Ivo Zandonella e Daniele Fontana. Buona visione e alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!